Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande e oltre grande formato. Questa è la terza puntata nella serie dedicata alla storia della fotografia con l'analisi di due libri completamente dedicati alla fotografia italiana, anzi per essere precisi dedicati alla fotografia degli italiani, alla fotografia dell'Italia e alla fotografia in Italia. Tre temi come vedremo alquanto differenti. Entrambi i libri si concentrano in particolare sulla fotografia nell'Italia dell'Ottocento. Buon direttimento. Il primo libro di cui parlo oggi è Fotografie e fotografie in Italia 1839-1880 di Piero Becchetti, edito dalle edizioni Quasar, il libro del 1978. Piero Becchetti è stato un importante storico della fotografia dell'Ottocento e collezionista scomparso nel 2011. Parte dalla sua collezione, che ha come suo soggetto più noto la Roma, editore dell'Ottocento, è stata acquistata dai beni culturali attorno agli anni 90. Nel dicembre del 2020 il Ministero dei beni culturali ha perfezionato l'acquisto della parte rimanente della collezione di fotografie del Becchetti. Rimando al link relativo alla notizia che ho messo nella descrizione della puntata. È una lettura che raccomando. È anche raccomandata una ricerca sugli iscritti del Becchetti e a coloro che sono interessati a capire meglio l'Italia dell'Ottocento, così come avere accesso alla collezione, ora che è in mani pubbliche. Torniamo al nostro libro di non facile ma non impossibile reperibilità. Io l'ho trovato su ebay in buone condizioni. Il libro è fondamentalmente diviso in tre parti, come si può vedere dall'indice. Le prime 50 pagine sono una cronistoria della fotografia in generale e in particolare all'interno dell'Italia risorgimentale. I temi generali sono quelli incontrati già nel volume di Zanier e quindi non sono una novità. Il daguerotipo e le sue applicazioni, il collodio e le sue diverse applicazioni, la fotografia stereo, il ritratto, la fotografia come ausilio alla ricerca scientifica. Ma ci sono anche informazioni che spesso, a torto, chiamiamo spicciole. Come il capitolo fotografare non era facile, dove vengono discusse tutte le limitazioni fisiche e chimiche che limitavano il fotografare in modo incomprensibile al giorno d'oggi. Informazioni che come dicevo spicciole non sono per niente perché aiutano a capire il perché della scelta di certi soggetti, il perché di certi risultati estetici, non cercati ma imposti dalla tecnologia, come i cieli slavati a cui si cercava di porre rimedio con due scatti a tempi diversi e successivo allineamento delle due lastre in camera oscura. Questo metodo trovò nel pittore e fotografo Gioacchino Altobelli, il suo maestro, con i suoi chiari di luna. Ecco un esempio dove si può vedere la realistica e drammatica rappresentazione del cielo. Insomma la vita del fotografo era dura, nel senso di fisicamente dura. Dopo aver parlato degli ingombri, dei pesi di banchi ottici, cavalletti, obiettivi, l'autore scrive che altra tragedia era poi il trasporto dei composti chimici necessari per le due operazioni fotografiche più importanti, l'emulsione da stendere sul cristallo e lo sviluppo da eseguire subito dopo l'esposizione. Questi composti chimici, conservati in pesanti recipienti di vetro chiusi da tappi smerigliati, venivano alloggiati in apposite custodie racchiuse a loro volta in casse di legno. La semplificazione della vita del fotografo passò attraverso dei miglioramenti della chimica. Il primo fu il collodio secco, che permetteva di preparare le lastre in anticipo in studio, niente più bottiglie di chimica e tende e tende da portarsi in giro, ma il collodio secco aveva una sensibilità inferiore a quella del collodio umido. Limitazione superata con l'emulsione alla gelatina bromuro che, con la stabilizzazione del processo, verrà poi industrializzata attorno al 1880, ampliando l'uso della fotografia ai direttanti e decretando la fine dell'era del collodio. La seconda parte del libro di Becchetti, intitolata Fotografi operanti in Italia, è un piccolo gioiello di deliziosa lettura. Questa parte è un elenco di fotografi attivi in Italia nell'Ottocento città per città, per cui se siete di Lecce, per dire, andate a cercare Lecce e troverete il fotografo Pietro Barbieri via Templari 14, oppure Melchiorre Falardi strada 4, spezierie, oreria, orologeria, ottica con fotografia, oppure Eugenio Parodi, stabilimento fotografico e negozio in casa di commissioni, Pietro Parodi e figli, Pietro e Silvio Parodi, come pure un certo Jacques, solo Jacques, basta, che fa fotografia parigina. Ecco, cosa si possa nascondere dietro al termine fotografia parigina, lo lascio decidere a voi, e non è detto che i più malpensanti ci azzecchino, sia ben chiaro. Salendo di molto a nord, ma sempre rimanendo nella L, andiamo a Lodi, dove troviamo il sacerdote Alessandro Sobacchi, che inventò un nuovo sistema fotografico chiamato fotantracografia. Un curiosito, mi sono messo a cercare in giro, trovando qualcosa su questo personaggio interessante. Allora, la fotantracografia era una specie di fotosmerigliatura, una fotografia al carbone su vetro e cristallo. Sobacchi era convinto che vetro e cristallo avrebbero presto sostituito la carta e la pellicola. Costui, Sobacchi, dopo aver dedicato tanto tempo al perfezionamento del metodo, scrive, come riportato nel bollettino della società fotografica italiana, si vede dunque quanto lavoro pratico e credo anche lucrativo si potrebbe fare applicando industrialmente la fotosmerigliatura. E sarei ben contento che si principiasse, ad onore della mia cara patria, culla dell'arte, ad adottare in Italia questo sistema da me vagheggiato da dieci anni. Chissà che qualche industriale pratico, conoscendo il gran profitto che se ne potrebbe trarre, non abbia a prenderne l'iniziativa che desidererei si effettuasse al più presto possibile. Insomma, il nostro inventore cercava del venture capital. Quindi la bellezza di questa seconda parte del libro è per questi frammenti di informazioni da cui partire per scoprire cose del nostro paese immagino da molti completamente dimenticate. La terza parte del libro è invece puramente visiva ed è una raccolta di fotografie del periodo. Il contenuto di queste foto e la loro ragione d'essere è l'argomento che svilupperò nella presentazione di un prossimo libro, in un'altra puntata, dedicato alla storia della fotografia in Italia. Quindi accenno solo al fatto che si tratta di fotografie di monumenti eruderi, ritratti della borghesia italiana e della gente più umile. Ecco, i ritratti di questi ultimi, della gente più umile, non erano fatti per motivi artistici e tanto meno per motivi culturali o sociali, ma almeno nei primi decenni della fotografia, parlo qui degli inizi degli anni tra il 1840 e il 1870, per un unico motivo, per essere venduti ai turisti. Ecco quindi che si fotografava quello che il turista si aspettava nella sua visita in Italia, il cosiddetto Grand Tour, che i nobili e gli agristocratici avevano iniziato a fare con il XVII secolo. Grand Tour nel senso di Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Le foto degli italiani dovevano rinforzare gli stereotipi culturali che i turisti si portavano nel loro viaggio in Italia. Ecco quindi la foto dei mangiatori di maccheroni, fatta esplicitamente per essere venduta ai turisti. Oppure le tante foto di quelli vestiti come Lazzaro, cioè con gli stracci addosso. Questi erano giovani napoletani, noti appunto come Lazzari, che si vedevano spesso girare in modo indolente o più spesso seduti o sdraiati da qualche parte a far nulla. Avete capito? Queste erano le foto dei Lazzaroni, che venivano infatti identificati dai turisti come persone indolenti e pigre, tutte concentrate nel napoletano. Questo il turista si aspettava come foto degli italiani e voleva comprarle per poi portarsela a casa, da far vedere agli amici. Quindi queste erano le foto che i fotografi che volevano vendere, facevano degli italiani. Ovviamente i Lazzaroni erano solo a Napoli perché era Napoli la meta principale dei turisti nell'Ottocento, con una natura dal clima clemente dove l'approccio alla vita era meno determinato dal morire di freddo o fame come al centro e nord Europa. Da qui la storia degli italiani pigre e indolenti che ci portiamo ancora dietro. Solo Goethe, turista certo più attento della stragrande maggioranza degli stranieri calati in Italia eppure innamorato nel nostro paese, fa notare che a lui tutti questi Lazzaroni sembravano non facessero nulla perché in realtà erano stanchi del pesante lavoro appena finito, oppure stavano riposandosi in attesa di essere chiamati per la prossima Corvè. Chiudo qui la discussione su questo libro. Il libro copre solo un certo periodo storico, ma la figura di Becchetti è talmente importante che mi è sembrato necessario parlarne anche perché non è il solo libro a suo nome. L'esistenza della collezione o in mani pubbliche e il contenuto del libro stesso, ossia le prime due parti testuali che la terza visiva, ci spalancano le porte sull'Italia dell'Ottocento. Voglio dire non sull'Italia fotografica dell'Ottocento, ma proprio sull'Italia, senza qualificanti. Ricordo ancora che cercando sia su ebay che su Amazon si possono trovare un certo numero di libri del Becchetti. In particolare segnalo il bel libro Roma in daguerotipia che si può trovare usato con relativa facilità. Il secondo libro che tratto oggi è Gli Alinari di Arturo Carlo Quintavalle, edito dalla stessa Alinari. Potete trovare il link al libro su Amazon come al solito nella descrizione della puntata. Il volume ha 600 pagine ed è poderoso, sia come mole fisica che, ben più importante, come contenuto testuale visibile. La stampa è di prima qualità. L'impatto iniziale con il libro confonde un poco. Bisogna leggere infatti 80 pagine prima di incontrare gli Alinari. Per il non addetto ai lavori che ha acquistato un libro dal titolo Gli Alinari, potete capire che questo può creare qualche difficoltà. Una volta capito il motivo però della loro mancanza per ben 80 pagine il tutto diventa comprensibile. Ovviamente gli Alinari hanno aperto il loro atelier all'interno di una situazione preesistente, ed è questo su cui vuole concentrarsi il Quintavalle all'inizio. Il libro comincia comunque con una discussione sulle difficoltà inerenti allo studio dell'archivio Alinari. Un problema se vogliamo molto banale, ma non per questo trascurabile, è dato dal fatto che gli Alinari sostituivano vecchie foto con nuove dello stesso soggetto, ma senza cambiare la numerazione. Una nuova foto poteva essere uno scorcio differente, un sistema chimico di produzione della foto diverso, e così via. Per cui la datazione storica di una foto e la sua numerazione non sono allineati. Oltretutto gli Alinari hanno usato, per scelta precisa di business, metodi chimici ormai non più in uso per mantenere un certo look, diremmo oggi. Un esempio di questo è l'uso della carta all'albumina, che gli Alinari continuarono ad usare addirittura fino al primo decennio del ventesimo secolo. Quindi anche la determinazione temporale di una foto sulla sola base del metodo chimico usato è potenzialmente complicata e rischiosa. Dopo questa premessa l'autore presenta la situazione immediatamente pre-Alinari, che occupa la gran parte di queste prime 80 pagine. Il motivo per discuterne è che le prime foto degli Alinari furono influenzate in termini di inquadratura, prospettiva, punto di ripresa, dalle immagini che circolavano nei decenni precedenti. Alcune di queste immagini erano daguerotipi, ma molte altre erano incisioni rigavate daguerotipi. Il rapporto tra incisione e fotografia, apparentemente conflittuale, in realtà fu anche cooperativo, almeno agli inizi. I daguerotipi venivano usati come sorgente per le incisioni. Quintavalle scrive «Il daguerotipo, caratterizzato da una lenticolare precisione nei dettagli, si presta perfettamente per una trascrizione analitica e precisa a livello di incisioni». I soggetti di queste incisioni derivate daguerotipi sono più svariati, dal Monte Bianco alle cascate di Tivoli, dal Ponte di Rialto al Mono di Monano. I tre protagonisti di queste 80 pagine, in cui vengono raccontate le influenze estetiche e contenutistiche sulla fotografia degli Alinari, sono un inglese, un francese e un italiano. Il primo, inglese, è John Ruskin, nato nel 1829 e morto nel 1900. Ruskin è forse il critico d'arte più importante dell'era vittoriana, ma fu anche fotografo, acquarellista, intellettuale e filosofo. Moltissime di queste 80 pagine vengono dedicate a lui. Ruskin è importante perché esce dalla tradizione del Grand Tour in Italia, fatta da intellettuali e studiosi interessati alla cultura del recupero archeologico e agli interventi di restauro. Ruskin è certamente in favore di proteggere e consolidare gli edifici, ma per il resto vuole lasciarli al loro destino, incluso il loro eventuale degrado con il tempo e distruzioni. Ruskin colleziona in Italia un gran numero di foto e testi, disegni e scatta fotografie, fa scattare fotografie e raccoglie incisioni. Tutto questo crea un ecosistema visivo con cui Alinari e gli esordi devono confrontarsi, anche perché la colonia britannica Firenze era una presenza importante. Riporta qui in tavale una frase di Ruskin, una frase di Ruskin che vi leggo perché illustra molto bene il rapporto del primo di Ruskin con la fotografia e il daguerotipo in particolare. Ruskin dice «Fra tutti i veleni della meccanica che ci ha propinato questo terribile XIX secolo, non possiamo non annoverare il sano antidoto che è il daguerotipo ed avere un'invenzione benedetta». Ecco cos'è. Oggi ho ripercorso in lungo e in largo piazza San Marco nel daguerotipo e ho notato dei particolari ai cui non avevo fatto caso sostando nel luogo reale. È proprio una bella cosa poter contare su ogni dettaglio, sapere quindi non solo che il pittore è assolutamente onesto, ma che non può permettersi di fare neppure un errore. Ho ritratto in questa maniera Palazzo Foscari sino all'ultimo mattone e quindi schedato San Marco riprendendola sopra, sotto e tutta attorno. Il secondo personaggio, questa volta francese, è Noël-Marie Paimalle de Rebois che è noto per una sua raccolta di 111 incisioni da daguerotipo del mondo dal titolo Excursions Daguerriennes e fatte tra il 1840 e il 1843. Le incisioni spaziano geograficamente dalla Palestina agli Stati Uniti. L'Italia viene rappresentata in 28 vedute, seconda solo alla Francia con 48. Le immagini in questa raccolta sono essenzialmente vedute. Parlando qui di quelle italiane, queste si concentrano molto sull'antica Roma, poi su Venezia, l'uomo di Milano, Firenze e Pisa. Il sud in generale viene ignorato, l'unica eccezione è Napoli, andando controcorrente rispetto al tradizionale viaggio in Italia alla Greta, dove il sud e la Sicilia in particolare erano componenti importanti. Dal punto di vista delle inquadrature, dal punto di vista della ripresa, queste ventute riprendono gli stili dei dipinti e incisioni che le hanno precedute, rinforzando quindi una cifra stilistica con cui gli alinari dovranno fare conto. Il terzo personaggio italiano è Pietro Selvatico Estense, architetto storico dell'arte. L'importanza della sua figura sta nell'aver dedicato particolare attenzione ad alcuni stili ed epoche, il romanico, il gotico e il rinascimento. Questo ha, se vogliamo, privilegiato questi stili agli occhi dei fotografi nei primi decenni della fotografia, che li hanno fotografati molto più spesso che altri, marocco per esempio. Il selvatico critico d'arte non è però meno interessante del selvatico architetto, in quanto sulla fotografia molte cose interessanti da dire. Il selvatico scrive un saggio dal titolo sui vantaggi che la fotografia può portare all'arte, dove dimostra in modo chiaro il suo entusiasmo per la fotografia, sia per il daguerrotipo che per l'invenzione di Foxtalbo che permetteva per la prima volta, al costo di una riduzione di qualità dell'immagine, la produzione di copie. Vale la pena di leggere un contributo di Selvatico che il libro di Quinta Valle riporta. Ma solo che si pensi come la fotografia possa adesso e potrà anche avanzata di più, darci rappresentazione di un fatto ma non crearlo, non rinfocolarlo di affetti, non rannobilirlo di elevati idee, non allegarlo di quei gai freschi, vivi di colori che rendono perennemente insigni i dipinti famosi dei secoli scorsi. Solo che si pensi infine come la fotografia possa darci le esatte apparenze della forma, ma non imprigionare dall'intelletto l'idea. Deve ogni paura essere quieta che non verrà danno nessuno all'arte vera e grande per tale mirabile invenzione, anzi invece soccorso grandissimo. Difatti, avvezzo il pubblico a considerare la verità, entra una fotografia, quasi fosse già un prodotto dell'arte, diventerà più sicuro giudice delle opere uscite dall'artista e solo apprezzerà quelle che meglio si raccosteranno al vero avvivato dall'ideale. Ne più muterà di gusto, col mutare della volubile moda. Ne più crederà che nel molle e nello sfumato si chiuda bellezza e grazia, perché scorgere come la immagine di ogni vero abbia a mostrarsi decisa e ferma. Il mondo dell'immagine in cui all'inizio degli 850 gli alinari iniziano ad operare in proprio e quindi quello di Raskin, del rebore selvatico. Ma non sono questi i solo punti di riferimento per cui il tavolo. La sua analisi include anche l'officina dei Bardi, specializzati in incisioni e in cui Leopoldo Alinari lavorava. Il Bardi era un facoltoso mercante di stampi e aiutò gli alinari nel loro inizio in modo decisivo. Lettere e manoscritti vengono anche citati, cataloghi e fotografie di contemporanei e ovviamente le fotografie stesse degli alinari, nonostante la difficoltà di datazione già menzionata. Inizia così la dettagliatissima storia degli alinari, argomento principale del libro. Che genere di fotografie venivano fatte agli inizi dagli alinari? La risposta è semplice, quelle che vendevano. Una categoria era quella rivolta ai turisti, per definizione abbienti, leggiamo. Molti stranieri vogliono portare via, lasciando la nostra città, delle stampe che ricordino la loro bella città o la casa ridente che hanno abitato durante il loro soggiorno nell'ospitale città di Firenze o ancora conservare un ricordo delle tombe dei monumenti levati sulle spoglie mortali di uno sposo o di una sposa in pianta. Ma gli alinari coltivano anche contatti nazionali e internazionali, visitano gli studi fotografici di altri fotografi, Bresolini a Venezia e Anderson a Roma, Verace a Firenze e Van Lint a Pisa, professionisti che diciamo erano i protagonisti locali della fotografia. Fanno anche viaggi all'estero, a cominciare da Parigi. La loro notorietà anche internazionale aumenta dopo l'exposition universelle a Parigi del 1855 e Leopoldo alinari comincia ad essere un nome noto anche al di fuori dei confini della nascente Italia. Purtroppo Leopoldo muore prematuramente ad appena 33 anni nel 1865 e gli alinari diventano i suoi fratelli Giuseppe e Romualdo che porteranno avanti l'officina da quel momento in poi. Come scrive il Quintavalle, Giuseppe e Romualdo programmarono un insieme di campagne e di documentazione sul testo storico dell'Italia unita che ha permesso la conoscenza delle opere e soprattutto di un'Italia minore e di un'arte che progressivamente non è più soltanto quella dei capolavori. Per molti non esperti parlare delle foto degli alinari è infatti parlare di monumenti e edifici storici e nulla potrebbe essere più sbagliato. Se agli inizi si dedicarono a questo tema è per l'ecosistema in cui erano nati professionalmente ma presto se ne distaccarono. Se facciamo una carrellata dei soggetti fotografati fino alla fine del secolo troviamo letteralmente quasi di tutto, cioè in ultima analisi troviamo l'Italia rappresentata. L'impressione dell'appassionato non esperto in materie come me è che ci fossero due filoni che gli alinari perseguirono nell'ottocento. Il primo era il lavoro che portava reddito e che permetteva loro di dedicarsi al secondo filone quello di documentazione dell'Italia che cresceva nel suo essere nazionale. Ci sono quindi foto di fiori, ma ci sono foto industriali di gru per il caricamento di materiali in un porto, ci sono foto di suori in un convento, ci sono foto di pescatori, di venditrici di terraglie e di pasterelle, foto di bambini che giocano, vedute di spiagge, addirittura foto quasi di ricerca estetica come foto di nuvole. Ma ci sono foto di stabilimenti termali o per il recupero fisico, foto di scuole e aziende di vario genere e poi fotografie di eventi come parate militari, processioni, ritratti di personaggi illustri o facoltosi. È una fotografia molto diretta, realistica. Vi ricordo che tutto questo succedeva proprio in parallelo temporalmente alla nascita del pittorialismo. La fotografia degli Ainari rimane per molto tempo una fotografia diretta. Un cambiamento però avviene all'ingresso in officina del figlio di Leopoldo, cioè Vittorio, nato nel 1859 e morto nel 1932. Nel 1890 muoiono quasi contemporaneamente gli zii Giuseppe Romualde. Vittorio, a 31 anni, prende in mano l'azienda e introduce un'immagine pittorialistica che caratterizzerà la produzione tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. In questo periodo, come scrive il Quinta Valle, la fotografia non ritaglia i particolari, non scandisce nettamente le forme contro il cielo, non analizza il rigonfiarsi dell'acqua, ma punti invece su un'immagine morbida, senza forti contrasti, flu. Nel seguito Vittorio cambierà comunque stile, si riavvicinerà alla tradizione degli Ainari in prima maniera, se vi passate il termine, cioè con delle immagini più realistiche. Vittorio è più vicino all'arte anche di quanto siano stati gli Ainari che lo hanno preceduto, sia nell'interesse personale, che dimostra più volte, sia nell'attività di cui si fa responsabile con numerose edizioni d'arte. Purtroppo un evento tragico colpisce Vittorio con la morte del figlio Carlo nel 1910 che avrebbe dovuto ereditare l'attività. Questo evento e la prima guerra mondiale con una drammatica riduzione dei ricavi costringe Vittorio a cedere l'azienda ad un gruppo di nobili e intellettuali nel 1920. Spiccano molti nomi noti anche oggi come Antinori, Ricasoli, Guicciardini. Nasce la prima public company in Europa operante nel settore della cultura, la Fratelli Ainari S.P.A. Il libro che è testimonio dell'attività di Vittorio come fotografo e si intitola Il paesaggio italico nella Divina Commedia esce nel 1921 dopo l'accessione dell'azienda e racconta di un'Italia vista attraverso i luoghi citati nella Divina Commedia e già questo, come scrive il Quinta Valle, dovrebbe far pensare alla cultura, al modello che Vittorio intende proporre, non una identificazione semplice del monte, del fiume, della città, con il testo del poema ma una reinvenzione del paesaggio fatta dal fotografo che diventa lui stesso artista. Vittorio Ainari vuole porsi come fotografo che immagina un commento visivo ai versi del poeta, non certo come con lui che banalmente ripercorre l'Italia sulla base dei luoghi citati da Dante. Mi fermo qui. Non senza ricordare che nel 2002 fu celebrato il 150esimo anniversario della Fratelli Ainari. Come scritto nel libro, le collezioni di proprietà assomano a 3 milioni e mezzo di fotografie, dando all'azienda un'indiscussa leadership a livello mondiale nella fotografia dell'Ottocento nel settore dell'arte e in quello della storia e dell'industria italiana. Come posso concludere? Un libro di assoluto riferimento, un acquisto quasi obbligato per chiunque sia seriamente intenzionato ad approfondire non solo la fotografia italiana dell'Ottocento, ma anche la storia dell'Italia raccontata per immagini del periodo. A mio modesto parere i due libri si affiancano molto bene anziché sovrapporsi e insieme rappresentano, per la mole straordinaria di informazione che contengono, un ottimo punto di partenza per approfondire tematiche specifiche dell'Ottocento italiano, che vanno anche al di fuori del tema fotografia, più propriamente detto.